Come facilmente preventivabile è il mondo della Serie D rinuncia alla giornata di campionato di domenica. Dopo la Serie C, che aveva adottato giorni fa il provvedimento, facendo slittare tutto al 15 gennaio, anche il Dipartimento Interregionale si adegua e va anche oltre. La quarta Serie va in pausa forzata fino al 23 gennaio, ovvero una settimana dopo il ritorno in campo della Lega Pro. Decisione sofferta e per la quale si è atteso fino all'ultimo, ma inevitabile, considerando i molteplici casi che stanno affliggendo le squadre dei 9 gironi. Il 23 si ripartirà dalla giornata che sarebbe andata in scena domenica, ovvero la numero 17. I prossimi 12, 16 e 19 gennaio invece saranno riprogrammate le gare di recupero non disputate, come da calendario che sarà presto pubblicato. Convastese e Notaresco che devono recuperare i loro incontri rispettivamente con Montegiorgio e Castelfidardo. Match in programma questa settimana, ma che hanno avuto un ulteriore rinvio. La decisione è stata presa tenendo conto dei numerosi rinvii chiesti dalle società, sia per le gare di recupero che per quelle in programma domenica, per accertate e documentate positività dei calciatori facenti parte dei gruppi squadra. Un provvedimento necessario per evitare ulteriori e numerose gare di recupero. Nel frattempo, le squadre in ogni caso potranno continuare a svolgere l'attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e da quelle che saranno emanate successivamente al 5 gennaio, ovvero di prossima entrata in vigore, previste per l'attività di interesse nazionale dei protocolli FIGC. D'altronde, nel solo girone F, considerati contagi allo stato attuale, sarebbero state 6 su 9 le gare da non disputare, troppo perché non si arrivasse allo stop. Nel computo complessivo sarebbero state 59 su 85 le partite che non avrebbero visto il fischio iniziale domenica. Si va dalle 4 del girone C, oggettivamente il raggruppamento meno in difficoltà dal punto di vista dei contagi, alle 8 dei gruppi A, B, D, G e I. Ieri tuttavia, nel momento in cui il dipartimento stava decidendo per lo slittamento di due settimane nel girone F, è andato in scena il recupero tra Vasto Girardi e Trastevere, col successo per 3-1 dei molisani, che spianano la strada ad una recanatese che nel momento in cui si tornerà in campo, ripartirà con 5 punti di vantaggio sui laziali. Un bottino cospicuo e che la formazione di Pagliari potrà gestire. Intanto, per il momento, la diva in ferie forzate, sperando che alla ripresa il ciclone Omicron abbia già esaurito la sua carica. Grazie a tutti.